Oggi facciamo la carbonara, usiamo la pancetta pubblicata, due uova, il burro, il parmigiano o grano padano, questo è lo spaghetti. Prima si soffrige la pancetta con il burro. Adesso si butta la pancetta, ecco è caduto. La pancetta con il burro, il burro, il burro, il burro, il burro, il burro. Mentre aspettiamo che si cuoce la pancetta, prepariamo le uova. Mettiamo un po' di parmigiano. Mettiamo anche il pepe. Mettiamo un po' di parmigiano. Grazie a tutti. 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 Ecco la nostra pasta alla carbonara.